Il governo ci ripensi perché il piano periferia è stata una delle azioni più importanti, più incisive per le nostre città, un'azione che va ad incidere profondamente in quelli che sono i tessuti urbani più degradati, dove ci sono rischi di pericolo sociale, di pericolo urbano, che incide profondamente anche sulla vita degli uomini, non solo sulle città, quindi queste sono attività che i comuni hanno programmato negli ultimi anni e c'è un intenso sforzo anche di tipo programmatorio, quindi io ritengo che sia assolutamente necessario dare continuità a questa azione, anzi bisogna continuare ad investire sulle città e soprattutto sulle aree marginali e sulle periferie.